Il sole e il caldo dei giorni scorsi sembra essere un lontano ricordo. Nella giornata di lunedì 7 giugno il maltempo si è infatti abbattuto sul capoluogo meneghino. In poche ore un violento temporale ha colpito la città e oltre alla forte pioggia a Milano si è registrata una grandinata. Probabilmente per questo motivo nel tardo pomeriggio è stata diramata anche un'allerta meteo gialla che interesserà la città fino alle 12 di martedì 8 giugno. Il maltempo non ha causato pochi disagi. Milano e l'Interland sono stati colpiti da intense precipitazioni che hanno determinato allagamenti diffusi, diverse le chiamate ai vigili del fuoco e polizia locale che non segnalano però feriti o danni gravi. Registrati 47 mm a San Siro, 42 mm a Cadorna, con la colonnina di mercurio crollata a più 16 gradi centigradi dopo una temperatura massima di 24. Molte le strade allagate con criticità in varie zone della metropoli e nei comuni limitrofi soprattutto a nord della città. In zona fiera sono stati segnalati circa 15 cm d'acqua, una quantità che viene smaltita con lentezza dai tombini e che determina rallentamenti del traffico. Si segnala anche qualche cantina allagata e tegole pericolanti. Possibili piogge sono previste anche per la giornata di martedì 8 giugno quando però almeno le temperature massime subiranno un lieve rialzo. Intanto la protezione civile ha diramato un'allerta gialla che durerà fino a martedì.